22 anni da compiere nel prossimo agosto ma nel campo e fuori Alessandro Silvestro pare già un veterano come quando senza mezzi termini ammette di aver scelto Foggia non senza timori il tempo però ha detto che la scelta è stata quella giusta. Allora io quando ho saputo dell'interesse del Foggia mi sono un po' informato di come fosse Foggia e sinceramente mi hanno un po' spaventato inizialmente per come era descritta ma devo dire che poi da quando sono arrivato sia l'ambiente Foggia sia anche la città di Foggia a partire dal panettiere a chiunque sono tutte persone gentilissime finora non ho mai avuto problemi con nessuno e veramente calorosi mi ha fatto molto piacere poi vabbè se parliamo dei tifosi giocare in una piazza così è bellissimo per un calciatore soprattutto della mia età è un'esperienza che mi forma e che mi porterò sempre sempre dentro. Silvestro è di proprietà dell'inter e a Foggia è arrivato nell'ultimo giorno di mercato di gennaio con la formula del prestito secco pur ammettendo le sue ambizioni non esclude che a giugno possa prolungare il matrimonio con i rossoneri. Ovviamente per la giovane età che ho è giusto che io punti a palcoscenici più importanti ma senza fare il passo più lungo della gamba insomma io adesso come adesso ti dico che se devo restare in Serie C mi farebbe molto piacere rimanere poi ovviamente a fine anno sia il Foggia sia io faremo le nostre valutazioni però a me non dispiacerebbe rimanere perché mi trovo veramente bene. Alle porte c'è ora la trasferta di potenza dal Viviani passano molte delle chance playoff della squadra di Cudini che alla disputa degli spareggi promozione ci crede come, come ammette Silvestro. Sì a crederci penso sia normale che noi ci crediamo perché veniamo da una scalata importante perché quando sono arrivato a gennaio eravamo molto più sotto però l'obiettivo è fare i playoff però noi pensiamo partita per partita e cerchiamo di fare più vittorie possibili adesso ne rimangono tre e non penso sia difficile cioè non è facile fare tutte e tre ma noi ce la metteremo tutta per portarle a casa tutte e tre poi magari ai playoff ci vai io stesso anche se non le vinci tutte ma l'obiettivo è vincere tutte perché dipende da noi insomma.